La televisione cinese sta realizzando una serie di trasmissioni che hanno come tema la diffusione dell'agopuntura e della medicina tradizionale cinese in Europa e negli altri paesi degli altri continenti. È intitolata Traditional Chinese Medicine Around the World. Il responsabile scientifico della serie, il professor Song Suankè, è un medico cinese che da oltre 30 anni vive a Londra, dove dirige la Santee Academy, un centro didattico di medicina cinese che opera presso la Middlesex University. La Santee Academy organizza corsi di medicina cinese come quelli organizzati in Cina presso le facoltà di medicina tradizionale cinese e seminari di agopuntura, farmacologia, massaggio, ginnastiche mediche, dietetica. Il professor Song svolge da tanti anni un'intensa attività clinica e didattica in Inghilterra e in altre nazioni europee, anche in Italia, dove è stato invitato a tenere seminari didattici e clinici fin dalla fine degli anni Ottanta. L'obiettivo delle trasmissioni è duplice, descrivere e valutare la diffusione della medicina cinese nei paesi europei e fare il punto sull'integrazione tra biomedicina e medicina cinese in Occidente. La troupe della televisione cinese incaricata di registrare le trasmissioni ha visitato l'Italia nello scorso mese di febbraio e ha fatto tappa a Civitanova Marche, nel mio ambulatorio, per intervistarmi sulla mia lunga esperienza di medicina cinese. E poi a Bologna, per filmare una lezione di farmacologia cinese che ho tenuto dopo la prolusione del professor Song Suankè agli allievi della Scuola Italo-Cinese di Evopuntura dell'AMAB di Bologna. Successivamente è stato intervistato il dottor Carlo Maria Giovanardi, direttore della Scuola di Bologna e presidente della Federazione Italiana delle Società di Agopuntura, per fare il punto sulla situazione istituzionale dell'agopuntura e della medicina cinese in Italia. La troupe è arrivata a Civitanova e ci siamo incontrati per definire nel dettaglio il programma dei giorni successivi. Giovedì 8 febbraio sono iniziate le riprese prima a fermo presso il centro medico Palmatea. È stata filmata l'esecuzione di una seduta di avopuntura e successivamente abbiamo approfondito la metodica di trattamento effettuata e la mia esperienza di integrazione medica sino-occidentale. Successivamente la troupe ha raggiunto Civitanova Marche per delle riprese nella farmacia Foresi che da anni distribuisce nelle Marche farmaci e integratori di farmacologia cinesi. Si tratta di prodotti fitoterapici sempre più conosciuti dalla farmacoterapia occidentale, un mercato recente in Italia ma antichissimo in Cina dove la farmacologia cinese si usa da oltre 2000 anni. Il ginseng è stato il capostipide di questi rimedi, seguito a ruota da altri fitoterapici, la radice di Astragalos per rinforzare le difese immunitarie, quella di Angelica per trattare i disturbi della donna, quella di Leutero Cocco per migliorare la performance sportiva. Sempre nella mattinata di giovedì altre riprese sono state effettuate presso l'ospedale di Civitanova Marche con un'intervista sulla mia esperienza di avopuntura. Lavoravo lì come anestesista, algologo e rianimatore e ho attivato dall'80 all'86 il primo servizio pubblico di agopuntura del Servizio Sanitario Nazionale di tutta Italia presso l'ambulatorio di analgesia e terapia del dolore dell'ospedale. I pazienti di Civitanova e della nostra provincia venivano curati con l'agopuntura che era erugata gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale dopo presentazione di un'impegnativa del proprio medico curante. Quest'attività fu replicata in altri centri, Ravenna, Faenza e Vigevano e cinque anni dopo, nel 1985, l'agopuntura fu inserita nel tariffario nazionale dei medici anestesisti. A quel periodo risale uno studio policentrico effettuato presso le AS di Civitanova, Faenza e Vigevano è pubblicato per la prima volta in Cina nel Journal of Traditional Chinese Medicine di Pechino nel 1991. Questa è la copertina di quella rivista. Nel pomeriggio le riprese sono continuate presso il mio ambulatorio di Civitanova, sono state registrate delle sedute di agopuntura per trattare pazienti affetti da artrosi e cefalea. Poi un paio di interviste hanno avuto come tema la rivista italiana di medicina tradizionale cinese che ho diretto qui a Civitanova, da dove è stata edita e da dove è stata diffusa in Italia e nel mondo per 25 anni come organo scientifico della Scuola Italiana di Medicina Cinese di Bologna. E un altro tema affrontato ha riguardato la pubblicazione di testi di agopuntura e medicina cinese in Italia che ho realizzato con il contributo di molti altri colleghi per la UTET di Torino, la re di edizione di Como, la casa editrice ambrosiana di Milano, del gruppo editoriale Zanichelli di Bologna. In particolare è stato presentato il trattato di agopuntura e medicina cinese edito dalla CEA in sei volumi. Si tratta della più completa opera di medicina cinese edita in Occidente che affronta tutte le discipline, fondamenti, semiologia, agopuntura, farmacologia, dietetica e massaggio. La mattina di venerdì 9 febbraio è stata dedicata a due eventi. La ginnastica cinese nei corsi organizzati dall'assessorato dei servizi sociali dei comuni di Civitanova e la visita a Palazzo Ricci alla sede del Collegio dei Gesuiti dove studiò Matteo Ricci, il missionario gesuita che per primo portò il cristianesimo in Cina e fu l'iniziatore del vero ponte culturale tra Oriente e Occidente. Matteo Ricci nacque a Macerata nel 1552, morì a Pechino nel 1610 ed ebbe l'onore, per la prima volta per uno struniero, di avere in dono dall'imperatore cinese un terreno per la sua sepoltura. Nella prima mattinata la truppa ha filmato la pratica della ginnastica medica cinese Qigong organizzata dal comune di Civitanova dal 1998. Da allora, in primavera ed autunno, si tengono due corsi gratuiti di ginnastica medica per gli anziani. Lo scorso anno hanno partecipato a questi corsi 145 persone. La pratica del Qigong si sta trasferendo dalla Cina nel nostro paese e permette di prevenire e curare molte malattie della terza età e di mantenere la salute. Nel corso dei venti anni di esperienza dei corsi di Civitanova sono stati effettuati numerosi studi sugli effetti del Qigong e si è visto che la pratica del Qigong migliora tutti i parametri esaminati in questi studi. La seconda parte della mattinata è stata dedicata alla visita a Palazzo Ricci, che ospita un ricchissimo museo di arte del Novecento e di arte contemporanea dedicato agli artisti marchigiani. Successivamente è stata registrata un'intervista proprio davanti all'ex Collegio dei Gesuiti di Macerata dove nel 1500 studiò Matteo Ricci e da dove partì per la sua avventura in Cina. Il tema dell'intervista è stato perciò quello dell'integrazione culturale tra Oriente e Occidente, tra Europa e Cina e quello della medicina come scienza che rappresenta il primo ponte culturale tra queste due civiltà visto l'alto livello di integrazione realizzato in Italia. Nel pomeriggio di venerdì 9 febbraio la troupe si è spostata nella Repubblica di San Marino dove opera la Chutien, una ditta che da più di 30 anni si interessa della produzione e commercializzazione di prodotti della medicina cinese. Fondata nel 1988, è l'antesignana del settore soprattutto nella produzione di integratori e farmaci erboristici. Il professor Son Suankè ha intervistato i responsabili della ditta e si è a lungo intrattenuto con loro per conoscere le differenze normative tra Italia e Cina nel settore degli integratori medici a base di rimedi erboristici. Nel corso degli ultimi anni molti ostacoli sono stati superati ma occorre ancora snellire molte procedure. La ditta ha ricevuto il plauso della troupe che non si aspettava di trovare in Italia in un paese così distante dalla Cina un livello così raffinato di metodiche di produzione e confezionamento dei fitoterapici cinesi. A Bologna è stata filmata una prolusione del professor Song e una lezione del sottoscritto su argomenti di dietetica e farmacologia cinese che si è tenuta presso la scuola italo-cinese di Bologna. Successivamente la truppa ha registrato delle immagini negli ambienti della scuola e del centro clinico ed un'intervista a dottor Carlo Maria Giovanardi direttore della scuola e presidente della FISA la Federazione Italiana delle Società di Agopuntura e questa intervista ha riguardato la medicina cinese e l'agopuntura in ambito didattico, clinico, della ricerca scientifica in ambito normativo e istituzionale. La scuola italo-cinese di Bologna dell'AMAB è riconosciuta dalla regione Emilia Romagna e tiene corsi triennali di agopuntura superati i quali viene rilasciato un diploma che permette di iscriversi ai registri dei medici agopunturi istituiti presso gli ordini provinciali dei medici. Le ultime riprese della truppa a Bologna sono state dedicate all'antico teatro anatomico dell'università conservato presso l'archiginnasio per sottolineare le differenze tra medicina occidentale che si è sviluppata a partire dallo studio della materia e dei tessuti dell'organismo e quella cinese più interessata allo studio funzionale ed energetico. Questa differenza non solo non è motivo di opposizione ma anzi di integrazione perché lo sguardo olistico della medicina cinese è completato da quello particolaristico della medicina occidentale. Video di medicina dall'Italia alla Cina A cura del dottor Lucio Sotte visita il sito internet www.luciosotte.it per informazioni su avopuntura medicina cinese medicina integrata Grazie a tutti Grazie a tutti